Questa volta anche Amazon è finita nel mirino dell'autorità garante della concorrenza e del mercato che infatti ha erogato al Colosso, una piattaforma web, una delle più importanti presente anche in Italia la sanzione pecuniaria pensate di 10 milioni di euro per aver limitato la libertà dei consumatori in fase di libera scelta nell'acquisto. Ma di cosa si tratta? Lo vediamo subito in questo video. Quello che l'antitrust è andato a contestare ad Amazon è sostanzialmente il fatto che si trova già preimpostata e quindi preselezionata l'acquisto periodico di determinati prodotti. Il prezzo naturalmente è calmierato proprio perché c'è l'acquisto periodico ma il problema grosso è che risulta preselezionato come acquisto periodico ovvero sia il famoso pallino blu che troviamo sul carrello in fase appunto di acquisto e poi si passa alla successiva fase appunto del metodo di pagamento. Questa pratica secondo l'antitrust va a limitare la libera scelta del consumatore si tratta di una pratica assolutamente scorretta anche perché insieme a questa contestazione c'è un'altra che è emersa in sede di istruttoria dell'antitrust ovvero sia la cosiddetta consegna veloce a pagamento. Di conseguenza tutte queste pratiche vengono molto criticate dall'antitrust il quale ha già previsto e irrogato una pesante sanzione. Naturalmente il colosso americano si sta difendendo cercando di trovare e preannunciando anche un ricorso contro questa pesante sanzione. Ciò che è interessante un po' per tutti noi che siamo incappati e io stesso sono incappata in questo problema della preselezione dell'acquisto periodico più di una volta facendo acquisti sulla piattaforma è questa cosa interessante che ha dichiarato Amazon anche in sede di difesa e di istruttoria che si sarebbe impegnata, dice Amazon, a definire l'opzione di consegna gratuita con rimborso ai clienti che durante il 2023 si sono rivolte al servizio cliente per lamentarsi di tale pratica con reclamo. Stiamo a vedere se poi si atterrà e ci saranno delle evoluzioni negli acquisti di Amazon e naturalmente vi terremo sicuramente aggiornati. Grazie. Grazie. Grazie.